Senatore, parliamo del Decreto Legge 36 che introduce delle novità per quel che concerne l'assunzione e la formazione dei docenti, quindi che cosa cambia? Una specie di ufficio a complicazione a fare i semplici, il sistema andava invece semplificato e questo non avviene, il percorso si allunga almeno di un anno, i nostri ragazzi sono già penalizzati rispetto agli studenti degli altri paesi perché finiscono i cicli con un anno di ritardo, per cui un intervento che prevediamo appena c'è l'occasione è di modificare proprio i cicli in modo di arrivare alla conclusione delle medie superiori alla stessa età degli altri paesi. Riguardo a quanto prevede la riforma, secondo me l'errore principale è stato quello di non coinvolgere assolutamente né le forze sindacali né i partiti. Io tra l'altro avevo già pronta una bozza di riforma che ho consegnato ancora due mesi fa al Ministro che non è stata assolutamente presa in considerazione, che però aveva la caratteristica di mettere innanzitutto a fuoco le diverse situazioni. Ho fotografato diciamo 16 diverse situazioni alle quali ho cercato di dare soluzione senza che si persassero i piedi una categoria con l'altra, per cui poteva essere davvero utile. Credo che non sia stata neanche letta perché il testo dà la sensazione di non essere neanche scritto al Ministero fra l'altro, di essere stato calato dall'alto da qualcuno che si occupa molto poco di scuola e ci sarà molto lavoro in Commissione. Siamo riusciti a ottenere anche lì, protestando che la Commissione di merito al Senato fosse coinvolta nella valutazione del provvedimento perché c'è stato addirittura il rischio che la valutazione fosse lasciata alla Commissione bilancio che sarà sicuramente più sotto controllo da parte di Palazzo Chigi, ma onestamente è difficile credere che abbia competenze sufficienti per valutare un provvedimento sulla scuola di questa portata. Ci sono i sindacati proprio sul piede di guerra e anche lei accennava al fatto che anche loro non siano stati inglobati in un tavolo di confronto e che addirittura il testo appunto arriverà blindato alle camere su cui quindi non si potrà fare alcun tipo di modifica. Un'altra polemica iniziata dai sindacati è il fatto che le norme della scuola sembrano essere state inserite nel calderone del PNRR senza alcun discrimine. È così? Io quello che vedo è che una quota parte importante del provvedimento dovrebbe riguardare più la contrattazione tra sindacati e governo e per cui mi è sembrata una vera e propria entrata a gamba tesa su una materia che non andrebbe discursa dai partiti. Per quanto riguarda i partiti io mi occupo di reclutamento praticamente da una vita e già nel 2020 ho depositato agosto 2020 una riforma che offre un ventaglio di possibilità per arrivare all'assunzione, alla stabilizzazione in particolare del cosiddetto precariato storico. Sempre a proposito del decreto legge numero 36, uno degli altri elementi contestati è la durata di questa formazione e quindi anche l'immissione in ruolo perché stando all'acquisizione dei 60 CFU o dei 30 CFU perché ha maturato anni di servizio comunque ci sono degli anni che andranno spesi prima di entrare in ruolo. Sì, e questo è in una situazione che vede il cosiddetto precariato storico attendere da 5, 10, 15, 20, addirittura 25 anni per quanto riguarda i precarii di religione, un percorso che porti alla stabilizzazione. Cioè in un paese normale quando tu hai sfruttato, perché questo è successo per molti anni, quando tu hai sfruttato una certa categoria per un periodo, in questa categoria quindi acquisito esperienza, si costruisce dei percorsi agevolati per portarli alla stabilizzazione. In Italia sta succedendo il contrario. Senatore, è arrivato l'ok, quindi la fiducia al Senato su un emendamento che prevede di poter attingere alla graduatoria dei docenti idonei al concorso infanzia primaria. Che cosa cambia? Siamo stati costretti a presentare questo emendamento che per fortuna è passato, perché negli ultimi concorsi, appena conclusi o in via di conclusione, non è stata prevista una graduatoria di merito che è quella che consente, quando qualcuno rinuncia all'incarico, di avere qualcuno, qualche insegnante che ha superato le prove, ma è semplicemente idoneo in quanto non c'erano posti sufficienti per assumere anche lui. La sensazione è che si voglia assumere meno personale, perché se non c'è la graduatoria di merito, il personale che rinuncia non può essere sostituito. Grazie.